Allora stiamo per cominciare la partita del secolo. Qui abbiamo oggi, 25 luglio 2019, la partita Animatori con ospiti dell'Opera d'Europa Beach Milano, intervista caldo prima della partita. Allora buongiorno Ciro. Guarda cosa trovo, qui per terra c'è il guanto, per l'altro il piccolo brillo, e qui c'è l'ombra di Peter Pan. Ora non so chi la deve mettere a posto, non sono stato messo a posto. Molto educato a rapire una fanciulla e non c'è il tetto. E' una canzone, spai! E chi ha? Me la chiamo di canzone questa! Se è pari andiamo in acqua. Sì, se è dispari andiamo qua. E vai! Tre è dispari! Niente bagno! Niente bagno! Ma quanto si diverte sto Cirobuono in regia? Ah, c'è anni? Qua è Giorno Beach! Stiamo per cominciare oggi domenica, siamo agli inizi di agosto ragazzi. Venite a vedere un po' quanta gente c'è. Ritmo di musica! Uno, due, tre! E' un forte, spuva! E' una domenica in poverizio! Sve sto è! Sve sto è! E' un forte, spuva! Perchè è rimasto in piedi quel coglione? E' questo! Focci! Donate! Grazie a tutti.